Direi che possiamo insieme a fare le nostre rivendicazioni Allora, voi compi che non avete, è vero, aspetta un po', posso avere un altro vassalvi e te potresti estendere i vassalvi per la posizione in cui ti trovi, quindi mi piace, diventi vassalvi nei croniali. Lì, se vedi duramente che non poteva diventare vassallo perché è troppo forte, mi paga 40. Si trovi per delle alleanze, forse, madonna, avrebbe accettato di diventare vassallo, è la corte questi qui, vabbè dai più anzi. Mi becco i soldi, va bene così. Mentre, Potawatomi viene ammesso. Una straggio sto facendo, ragazzi, una straggio. Non so se è troppo facile la partita o sono io che mi sono districcato parecchio bene. Per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me. Paghiamo il debito. mesuaki ci sono un sacco di cose che possiamo fare però io non ho portato avanti migliorare le relazioni con loro sette navi stessa missione il nostro esercito sta tornando la cifra è considerevole adesso quindi possiamo pensare a inviare qualche coloro ma ci guardiamo sempre sono bastardi carole sono bastardi carole hanno distrutto è già la colonia adesso elimino voi ok secondo pensiero annettervi il mio deve essere almeno 190 quindi andiamo a migliorare iniziamo con si vu si vu forse mi sembra che sia stato il primo passale quindi proviamo qui di poco al volo vediamo che possiamo congelare i privilegi lo sconto è sempre tra borghese e nobili in questo caso adesso possiamo spendere il mercato vediamo quale conviene qui assolutamente non lo stato del massachusetts si può fare Nonostante ci costruirà 019 il mantenimento, ma è una storia di circa 1, quando l'autonomia verrà ridotta, diverte tutta di voi. Abbiamo pagato 127 soltanto perché forse era una colonia, perché teoricamente non dovevamo pagare nulla in strutture territori, erano nazionalizzati. Madonna. Vediamo un po' qui. L'obietà perde 10 di realtà. Leatta. Per di 45 di Ducati non mi conviene, per di 5 di Prestigio non ha la tassa, per di 15 di Ducati non ha la tassa, per di 15 di Ducati non ha la tassa, per di 10 di Influenza. Ok. Con diet, riprendiamo di nuovo tutto. Ma madonna io moro. Sti mercantio. E' una cosa abbondo, è piena una ospita. Allora, detti 10 di realtà, altrimenti guadagni 10 di realtà e depozione. Depozione al 100%. Vediamo. Migliorano al mercantilismo. Allora, sicuramente al massimo, me lo vado ad annettere. Passatino, più. Presto sarà in annesso. Altra idea completata. Da di qui. Naval Doctrine. Doctrine navale. Sì, interessanti sono. Mantenimento navale. 35 di Nevi. Sì. E' un relativo tuttato al 350. E' un relativo tuttato al 350. Parinai. Allora. In questo è giù di essere agli essi. Allora, stavolta Deve essere un borghese. Bene, che mi piace. Guadagniamo un casino, ragazzi. Ed è il momento di inviare un altro colono. Dobbiamo completare gli stati, eh. Mandano due. In che si manca? Dovendoro. Ok, andiamo giù qui. Scendiamo tutti per pure il nostro esercito. Questo cambia tutti. Comunque succede, allora, sembri d'attacco. Macchia tipografica. Sempre Seneca. Macchia nativi. Chissà che cambiano la mia politica sui nativi, a sto punto. Non mi importa. Abbiamo qui un bel po' di desideri, eh. Perchè anche robbi i valforizzazioni a loro? Perchè anche io li sto a mettere tutti. No, non capita questo. Allora, vai a migliorare le azioni con loro. Unisciti. Fai i tuoi compagni. Anche tu. Perché abbiamo un bilancio così negativo? Sarà colpa della stabilità? Vabbè, lo sono. Abbiamo due coloni che stanno lavorando, però. No, se riusciamo a creare. Perfetto. Il clero vuole un territorio. Lì mi manca. Aiutiamo i nostri compagni a nord. Potete ritornare a terra. Ancora? E qui si conclude il video ragazzi. Spero sia stato di vostro gradimento. Se è così dimostratelo con un like, un commento, condividendo il video sui social ed ovviamente iscrivendovi al canale. Vi lascio ad altri miei video. Ci vediamo alla prossima!